Il Trenniter City Night 7.55 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce, delle ore 21.35, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla Vene a Gialla. Ferma a Parna, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ancona, Pescara Centrale, San Severo, Boggia, Barletta, Trani, Pisceglie, Molpetta, Bari Centrale, Monopoli, Pagano, Ostuni, Brindisi. Carozze dalla 0 alla 8 in testa al treno, dalla 7 alla 4 centro treno, dalla 3 alla 1 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio letto e cucente.